benvenuti al samuel rift sto registrando pesa non sa neanche come è cambiata ragione non so come è cambiata ora ti ammazzano di schiaffi dimmi che preso il sul 30 prego certo quello non ci sa mai è ora va di moda invadere sempre perciò aspettati l'impensabile ma perché sono mid con timote perché gli altri due hanno detto che prendevano voto ma non può sapere un mit no a rigore non è un genio ma poi perché c'è la dorance blade per chiedere non è così male ma è mid non si usa più lo spedano non faccio un cazzo se no appunto dovevi prendere il libro porca miseria il mid è perso il mid è già affidato ma possiamo che dunque fai non arrivarci e ci vieni qua a tenere un paio di colpi a questo blu di merda rego tu inizia ad attaccare no e ora funziona da chi è più vicino prende l'agro perciò l'attaccato che attaccalo attaccato se lo colpisco picchia me basta grazie cari lui ciò non 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 vogliamo parlare di quanto sia OP Jax è un modo per dire che sta a perfidare è un modo per dire che questo qui è chiaramente un mongolo ma nonostante tutto il suo danno è 6 volte superiore al mio non ci posso credere, ti prego non ci morì ti prego non ci morì, ma non stare lì ti fa del danno come hai fatto? ma non lo sa neanche io ho preso l'Inghite ah non ho preso neanche un oggetto, bravo ecco perché mi faceva così danno ho preso zero oggetti e poi ero preso per il culo a Rigo inutilmente che pare, tutta colpa da Rigo come al solito non è facile giocare due personaggi hai fatto una figura di merda non negarla ho preso il doppio dei cosi vaffanculo e di quanto rispondono? un minuto? si se vieni si un sacco di livelli visto che è al 4 è al 4 si st'arrivando non ha volve no come si è messo? sono full e c'ho tutte le skill fuori dai cooldown ok e lui è qui nooo dai ma quella che basta madonna che cane no no perché? si bene ecco la skill dio santo va bene succhiare una succhia quella l'ultima eh no succhia quella piccata di minon no non è la piccata mi colpi il timing della giungla però fa niente le gang funzionano quindi va bene va benissimo così va bene non ti sei neanche accorto che ti ho salvato le palle eh si hai preso l'agrodellatore eh si bravo sono orgoglione di te se per caso ti serve una mano eh beh se ti sta lì che mano non mi serve più una mano su una giungla che vuole KZX? oh bravo KZX mi hai preso eh ah io eh si ma questi mi immaginano sono lontano io provo a venire se non mi stuna si ok sono vivo cioè KZX però che ti viene in bocca se lo prendiamo lo inculiamo è lì nel fiume lì nel fiume gli andiamo in due è morto sta prendendo mito sta prendendo il tuo dai 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 Arrigo sali Arrigo grazie per la tua scelere risposta come al solito grazie non è dietro c'è Jack c'è Jack eh sì buonanotte ormai l'abbè presa l'altro sei svelto e efficiente Arrigo veramente eh non così veloce che poi magari ci aspettiamo cose buone dimmi con è impegnato con quello non fa niente a ne occhio a due mito e due mito io faccio la bin vecchia che facevo tempo fa guarda che sono tutti e due mezzi morti uno sta tornando topo non ricordo più quindi improvvisiamo compriamo oggetti che ci sembrano simpatici ma anche si è ancora funzionano allo stesso modo si è cambiato semplicemente gli oggetti esatto ok aspetta ma dovresti farti l'amplifitom per il lifesteal e lo spellbump eeeh eeeh aspetta salve che palle che si è tantissimo la vita sta cosa faccio il 6 e se vuoi vengo a far una gara eeeh dio ignight affanculo merda sopravvivi tu fuori? il tuo cazzo è aggressivo questo imbecille ma è senza mano senza vita boh io ci provo non dovrebbe avere ruolo no? no non ce l'ho devo prenderlo con l'ultimo però guarda aspetta oh sottotorre sottotorre vai stupralo ma sempre mi regge il loro janker ma dai vai stupralo bravo e si ricorda ancora come si gioca fidu devi farlo un secondo prima che devi essere l'ultimo colpo eh eh ho sempre uno spaventapasseri che cerca di camminare non vorrei essere pignolo non è che sono veloce manca il scemo pagliaccio ecco tu come stai male quanto stai male ma non ci posso credere ma guarda quel culo vaffanculo merda ti serve una mano? si vieni corri si adico fammi cover fammi se dovesse entrare qualsiasi cosa lì dentro scoppiala a questo punto direi un passo più niente va bene ultima di kartus no è vero kartus è che l'era no no è il 6 è il 6 è il 6 è la senza mana stai tranquillo la donna come ci caschi però eh è al 6 uff meno male che non l'ha usata mamma mia lo puoi fare a pittimo no la risposta a che non ne hai no ma morta rigo vieni qua che lo uccidiamo ok sono senza mana tu picchiavi ma devi picchiavi e attacco bianco sai timo vai no ma visto smettere sono uscito male vai vai ti tengo io il middle vai vai via vai tu scavo di fa più soldi la volta più soldi che quasi ci sono io tu non la senti neanche la mia io poi sto giocando contro sto cosa che non so nemmeno che cacchio lo fa Kha'Zix è un po' un dito in culo se va nei buscetti c'è una passiva che fa un fracco di danno cioè la sua pupa ha un fracco di danno ma anche Jax ti piace il nuovo ping? no fa cacare eccolo ai arrego blastalo come sono sul sei fare ma adesso è duro ah 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 via ma non ho paura arrego ho detto fatti ap niente ha preso il martello oh ma sei duro bel muro kart bellissimo utile come la sentite io vado qua ma ascoltate siamo in tre ma li possiamo no ma non devo vedermi che parto di ultima firemer oh bravo arrego stila come sono tu sei fare e basta prendere il martello fatti ap porca miseria ti fai la mala eh sì la mala il natural purtutto doni funzionano ancora d'agro eh sì se gli spari ti spara no no se spara un eroe sotto e ti spara sì ma sblastatelo ma ovvio è Enrico se non si sveglia però ma aveva appena preso spestilarmelo tu metto funghetti e mi torno a un ball I'm team o I'm stealing aiuto tu hai mid è il karma cosmico che ti punisce perché mi stili le cose mi piace che mi devo fare metto Ale ma naschurtut chi sarebbe corale che è appena ucciso scusa il carry che eroe sarebbe che non riconosco il ritratto misfortune ok è cambiato il ritratto è identico ritratto non è vero è cambiato tantissimo non è vero è il cappello c'erano altre cose non inventare per favore anche cioè cosa qui è una banale defezione che hai avuto ah mid mid la terminata non mid lo ammazzi è andata giù la torre eh non c'è mano ragazzi ho appena preso il blu cincia invece di farti picchiè dal meringue dal meringue dal meringue banane e meringue ma iniziare a spaccarli qualche teore dici che farebbe strifo eh sì è quello che sto provando a fare dal 92 KZX fatti una vita c'è la torre mia sopra top che gli basta due colpi è andata beh picchia dal tore tira da giù sì sì oh intanto io vado a bo boh andata ah signoravo di avertelo stilato scusate eh no no non ti preoccupare me l'hai perfettamente stilato tipico di arrive ah torna già sta arrivando è morto è morto anche questa sì certo sì sì è andata a tua volontà no scudala no non muore non muore l'hai tirata dopo eh vai vai andiamo ma cos'è Jax era mid si è andato via si è andato all'omofobia dopo questo drago o Jax Jax è l'ultima non c'ho il mana li avrei tirata con piacere l'ultima c'è un brillante duello tra Rigo e uno scherzo sì no mi sta affidando che è una bellezza porta il mio messaggio di silenzio tra nel mondo drago drago sì arrivo beh mi fa ancora piacere sono tutti lì sono tutti lì sono tutti lì sono tutti lì stanno arrivando tutti più che altro anch'io sto arrivando ciao non lo so io sperano di competere ora drago con la mia classe la mia grazia la mia skill la finita non sapevi riconoscere anche il ritratto di Miss Fortune un dio santo senti l'hanno cambiata la grafica la grafica è cambiata sì quello sì ma non riconoscevo ma perché eri lì ma perché ma a che serve il fungo lì abbiamo però finito il drago stiamo tutti male a me l'hanno fatto per l'odore top dai ho preso la nash la nash al su mi hai fatti la mala di ora l'hai visto un fiorino che fa le animazioni di dragon ball supersonico quando ti repugni un fioretto scusa non un fioreto ah ecco ora torno un po' di più ah è un previdente che ti mette non vedo quale sia il problema no vabbè I am Goku ma vai da 9 eh si ok oh no eh e lo sai una cosa ganza va con l'ultimate mer gage qualcuno ma che te ne ha fatto mi sporto con un colpo scusa nash e vabbè è morto Ammazzala? Ammazzala due volte? No, c'è anche i Jax, quel cazzo. Ammazzai tutti? Come cazzo? Ma non ha come sei che minuccia ce l'hai qua. Da vero, eh? Eh, guarda via, da su. Ma in Frosier Manet secondo te stacca il rallentamento con il Relayash Chapter? Se ha il nome uguale. No, 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 no. Almeno ai miei tempi no. No, perché non c'era proprio scritto, non c'era. Arrigo, arrigo, vedi qua, vedi qua che c'è Jax. Ma dove? È qui. Ha appena preso il fuoco. Eccoli. Miss Fortune, dai. Dai. Si scoppia Jax. Decidetevi, o Jax o cosa? Vabbè, all'ultimizzalo, dai. E' l'inferno. E vabbè, sei idiota. Ma è una mano qua, Dio Cristo, contro 2000. No! Vaffanculo, il putello di Kartus! Sì! Io odio quella schiz. Sì! Sì! Perché quella lì sarebbe la sua ultima, no? Sì. No, no, è la sua Q. La spamma ogni volta che c'è... Non conosce Kartus. Arrigo, sei pessimo. No, sono entrato contro solo due volte e l'ho sempre odiato. Ai cazzo, uccidetelo. No, per alcuni sì. Per cui di noi sì. Report Kartus. Why? No! Ragazzi, però uccidete, lo erano di davanti a non far nulla. Siete pessimi tutti quanti. Basta. Per questo mi sono fatto la Glessidra. Così adesso faccio l'ultima Glessidra e zitti. Vabbè, hanno... Gigi. Va bene, non mi fanno neanche giocare con la Glessidra. E sono tornato su Loll, più subnormal. E' visto subnormal, eh. Più forte che mai torna. Ah, giusto, io lo devo anche registrare. Vabbè, partiamo così. E partiamo così. Ma non c'è la webcam perché non avevo voglia ogni volta andi sullo sbattimento di stoppare e riattaccare. Oh, io, io. Ma c'è la fata solo, lo devo cullarglielo? Gli ho dei picchiere soltanto di bianco. Lo mandaglielo. No, magari a Rigolo però devi esserci te, Dio santo, che non sai fare niente. Vabbè. Giori, giocando a Dota 2, non si riconosce più il metà game di log. Ma perché se lì vieni qua? Ma tanto è figo però a venersi in numeroli. Ma quanto bisogna dirglielo da Rigolo? Se fa il gioco ti piace un sacco. Ciao, Lux. Basta, vattene a far culo. Uh, chi abbiamo, bot? C'è Lux. Uno e l'altro. E Kog. Vuoi far qualcosa? Fallo, allora. Picchialo, picchialo, picchialo. Cazzo, come si permette? Uno. La gente viene qua e piazza le world e pensa che non gli tiri delle scopole. Qualcuno si sta sbagliando. Sa che è che con il mo' si sta sbagliando, eh? Voleva una bomba, voleva, mi dice. No, no, mi dico che farmi bene, Lux, eh. Ma se sta avvicinando troppo, spari e allontanati, cazzo. Dimmi te quando ti serve l'Ial. Non serve a te, io che sono full, vero? A te ora serve l'Ial? Tanto? Sei morto perché sei un coglione? Ti sento di santo, gli ingraggi d'orologio ti fanno male. C'è più la mano per il la step, però. Andiamo a mettere se la vuole. No! Ma ha preso la troccola. Madonna, Madonna che danni. Madonna che danni. Madonna che danni. Mi mancano la linea. La word durava quanti minuti? Due, sei morto. Verda, verda, verda. Verda, 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 verda. Bromaccia! Io sto facendo i danni, non so se ti sei d'accordo che tutto il danno io faccio io, se non so cosa sto sparando. Rimando tutti i limiti a uccidere quali che stanno basse di vita. Tipo ce n'è una lì qua, da mezz'ora. Vediamo se ce la fai. Bravo! Mi è reso orgoglione. Mi è capito, devo venire a gancare. Mid. Come sta male? Come sta male? Ho ormai imprigionato però. E cammini in a letta come un fufo. Eh, non ci sono ricordo Ale. Non muore. Ma non ci posso credere. Ma ne ha pochissimo. Guarda che puttana. Serve solo l'ultima. Devo ritornare indietro. Dai, stanci pure il tempo che vuoi. Più ci stai meglio è. Gli vuoi sparare o vuoi... Eh, ma ammazza. Ma spari così lo blindi. Dio santo, glielevi un po' di vita. Tanto te la leva comunque. Porca miseria. Come fai se è così lento? Ma Zack non fa danno, scusami. No, Zack è solo da disturbo. Fa zero danno. Eh, infatti me ne sono forse. Te li tiene fermi quanto vuoi ma non fa assolutamente danno. Eh, molto poco inutile. Eh, sì. Si fa ancora la mil con più anelli? Sì. Ma io non la farò. Ma quando vuoi sparare anche te un poco, non tanto un poco. Mi sei riuscito a tirargli un colpo, eh? Nel frattempo che ci siamo scordi 10 secondi. Io ho curato. Uno. Saremmo se andavamo avanti a far giangola, eh? E io sono, cioè, non posso contribuire alla partita. Perché sono il supporto di questo qui che è inutile. Vai, va via, va via, va via. Riesci perfettamente. Ma come sta male? Ma tu, mamma mia. Ma dove è? Ma io ti ammazzo di schiaffi, imbecille. È scarsissimo sto zan, però. Eh, ti ho detto, no, il champ nuovo. Con i cerebrolesi. È il primo giorno che lo mettono gratuito. Torna, eh. Ma un'altra bocomba si vede, oh. Ma mi troppa il blu? Già, come se vuoi sentire la bocomba? Eh? Eh? No, non me lo dai il blu. Non so che non ti lo dai il blu perché è stupido. Ah, mia, mia, mia. La bocomba si vede, oh. Posso mettere funghetti, ora. Tu, prendi le porte della casa. Spara a quello, Dio Cristo! Come sono forte, cazzo di booty. Quanto sono forte! Io l'ho tirato giù, tu l'hai stilato col veleno. No, ovviamente hai stilato la cuore. Ah, le mie quattro cu, infatti, era quello che ha fatto, la tua cu senza ability power. Ma non ci mori ora, però. Ci vai via! Trocola. Ho preso l'oggetto e non lo farei. Però sto riprendendo la mano a farmare, dai. Mi è un po' poco, eh. Mancherebbe in uno. Merda. Ma l'uno? Miss? Ti ho detto, mancherebbe in uno giù da ore. Non c'è mai stato. Ti fa il cazzo che ti pare, ma devo togliere la musica. Quanto si parla? Non c'è mai detto, eh. No, ok, non vi ho sentito, c'è vuola musica. Lì non servono un cazzo. Oddio, del cielo, perché devi manire? Ma fa schifo, ma guarda come fa schifo. Ma no, giusto ce l'ho mai, vabbè. Adesso cosa so fa. Arrigo, quando puoi svegliarti, poi. Non ci credo. Madonna, era quasi sopravvissuto. Basta, 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 basta. Basta, basta! Madonna di Dio, ma perché sei così duro? Non ascolti mai un cazzo. Povero Garen, tipo, nessuno l'ha fissato per ore. Vabbè, è perso. Non è perso, sì. Non posso fare niente. Surrender? No. Sì. Ma quanto si fa? A 20. Per forza. Ma quanto io avevo a Kogumoku una bomba? Ma quanto io avevo? che cazzo ha flashato ci vai via 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 ma perché passa di qui va dritto cazzo di bocca bloccali col tuo corpicione ale vado a scendere vediamo se scende in tempo però sta accendendo anche il luxe università che ciò potete avere a casa di cristo a questi scegliere sti bagiacci o che non sono merda merda ancora come stanno male ma vaffanculo ma cazzo coso quanto è perso sta partita ciao non sto più baffi non ho ancora visto un blu io che le volte che vedo il raggio rossi di quello scemo penso che sia l'ultimente di x invece uguali e quindi fai a che c'ho la grafica di merda ale ma uno è dritto e l'altro è verticale ma non se una è blu arrico coltivo di farti correre così che devo fare muore qualcuno ma che magari io si e buonanotte ma guarda sono uno come è rimasto cartus devo prendere cartus non bella non bella non bella che cazzo fa insulti? certo non prendere non scaricare le porte della tua scarsità come supporto anche sul posto 3 kg quanti assisto? sì ale ave pazienza mi sa che è serpignolo ma le ward che ward non c'hanno non c'hanno il jungler e poi intanto è inutile le ward con questo coso cioè muore per la dc chi lo viene aggancare non si è decollato non si è decollato non si è decollato è inutile è persa non c'è fare usare timo qui qua mi hanno pingato in otto tu ti hanno pingato per dimettere lì perchè almeno vedi che ma è giusto metticelo per forza così prendi un sacco di danni ma ricorda perchè ti insisti con timo? cioè non sai fare usare timo è chiaro ormai questo sì poi si è morto ma che cazzo ma addio dmime Dio hai evitato la meteora puro eh c'era tronata cos'ha approfondi dentro di un colpo stessa mamma mia si c'è sembra più caro che palle il tuo ottobolollo ha stata distrutento cosa dice cosa da zerg non so stanno facendo il blu proprio felici lasciami il farm non vedo come potremmo girarla ma non si può girare questa partita è andata vai bravi una torre sta arrivando io voglio e la gente chi io mi sacrifico per la gente per cui ultimizzala faccio il cazzo non mi hai fatto le chiamette è a posti il more ma dove ho tutto questo coso qui ti prego impedisci no niente fa troppo schifo ma non lo blocchi basta va via se no ci muovi anche te ma ci possiamo arrendere tu non sai quanto sai di francese probabilmente lo sapevo che mi piace che vi è nooo dogma del cacchio è proprio inutile ero di me si prende? è troppo presto per rifarlo eh si quanto devi passare? 3 minuti io devo arrivo in fecchi di parlare no? eh si quindi quel numero dia ha un culo della Madonna no è che sei tremendamente scarso e le due cose combinate non potrebbero essere visto che il carico è tremendamente scarso non mi è un po' fortunato vedendolo in questa maniera mi sa che tanto prego no 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 sicuramente ma perchè gli ha lanciato ma perchè gli ha lanciato è domani grande 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 cazzo vabbè non ho modo per morirci come altro noi ma che per cui perché 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 ahhh ha dei danni se si rimane in base sospetta che c'è un bando infatti è quello che sto facendo non me ne faccio più niente ma no ma che nessuno mi fa cioè non sto giocando non so se hai capito io voglio che finisca per giocare perché io non ho giocato tu hai giocato forse no neanche io almeno tu hai una posizione utile cioè perché oh boom no che cazzo è mi crascia anche il colpo quella che stronzi no no si lo fai spaccare i minion no no basta cancello tutto non c'è è quello che vuoi scusa dai stanno regalando è gente che ti blasta perché sei scarso al voto no andranno a fare il barone ma se non ci vuoi né tira giù non c'è no ma se non ci vuoi ma così che la girano in qualche modo non si può fare assolutamente non sono AFK dai muori grazie a lei per un'altra dimostrazione di come non si può uccidiamolo l'ultimo e uccidiamolo e lui si torna da solo è logica la cosa cosa ci faccio una volta che lo risseguo lo guardo male si si sicuro vai bombe su Nunu non ci arrivo io però però è schifosa 3 sono morto dai dai mi è venuto per cosa si riporta non so Garen Garen non ha colt eh Garen non ha colt dovremmo riportare a Starry si ma tanto eh ma forte con rapia è il tipo peggior carry della storia ma puoi giocare un carry vero uno che va a digrenzo no perché per lui è top mid il jungler ma le facciamo il tempo no facciamo un ricovincio ma si brutta via un ruolo utile cioè più tanto facciamo seguiamo Gianna da Enrico guarda Enrico è morto da una fontana c'era nella fontana che è morto grazie che fa più troppo camera Enrico dovrebbe comparti Gianna e star